Il nuovo piano strategico 2023-2025 di Simest per sostenere l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane ed il Made in Italy è uno strumento da tenere in massima considerazione. Ovviamente il nostro governo conta molto sull'internazionalizzazione, tra le altre cose a rendere interessante il piano Simest è anche l'aspetto meramente quantitativo. Per il triennio in esame saranno stanziati 18,5 miliardi, vale a dire il 20% in più rispetto al periodo 2020-2022.